Ciao a tutti, sono Martina della Soundbar Viaggi e adesso vi faccio vedere come si prenotano delle attività sul monitor touchscreen MSC 4M. Come vedete si possono prenotare varie attività come spettacoli teatrali, ristoranti tematici, escursioni, ristoranti tematici e pacchetti bevande e pacchetti benessere. Si può vedere inoltre il daily program, avere informazioni sul turno della cena, sullo sbarco e altre informazioni utili. Adesso vi faccio vedere come si prenota un pacchetto bevande. Basta cliccare su ristoranti tematici e pacchetti bevande, pacchetti bevande e scegliere il pacchetto bevande che più si preferisce. Per esempio scelgo il primo. Cliccando su mostra altro si può leggere la descrizione di cosa comprende questo pacchetto bevande. Se decido che questo pacchetto bevande fa il caso mio, clicco su acquista e a questo punto basta passare il proprio braccialetto o la propria cruise card vicino al dispositivo di lettura e dopodiché il monitor ci darà conferma dell'avvenuta prenotazione. Cliccando su mostra